Physicast, curiosità dalla fisica, per comprendere perché accade ciò che accade. Forse non tutti sanno che la teoria del Big Bang non era l'unica ad avere una spiegazione per l'origine dell'universo e che non sapeva dire come nascevano degli elementi della tavola periodica oltre l'idrogeno e l'elio. Franco Bagnoli, ricercatore in fisica della materia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze, ce ne parla in questa intervista di Giovanni Pacini, vestendo i panni di Fred Hoyle, scienziato multiforme del Novecento. Per le interviste impossibili, oggi abbiamo una persona eccezionalmente eclettica, Fred Doyle, fisico del Novecento, noto per la sua teoria alternativa al Big Bang e per i suoi romanzi di fantascienza. Ben arrivato, professore. Grazie per avermi invitato. Sa, a volte penso che la gente mi eviti per le mie teorie non proprio ortodosse. L'abbiamo invitata appunto per discutere di questo. Ci racconta intanto un po' della sua vita? Sono inglese, figlio di musicisti e ho studiato matematica. Durante la Seconda Guerra Mondiale ho lavorato nel campo dei radar, un elemento fondamentale per difenderci da raid tedeschi e anche poi per attaccarli. Una cosa che probabilmente non è conosciuta è che queste ricerche nel Regno Unito impiegavano più persone di quelle coinvolte nel progetto Manhattan negli Stati Uniti. Accidenti! Immagino che dietro il radar ci fosse un'organizzazione molto complessa. Certo. Bisognava coordinare chi operava con il radar, con la difesa o la guida agli aerei e che di solito dipendevano da amministrazioni diverse e quindi parlavano difficilmente tra di loro. Ovviamente c'era anche un po' unulare di spie, di maneggioni e di altre figure ambigue, che ho poi utilizzato nei miei romanzi di fantascienza, che non sono di pura tecnologia ma comprendono anche gli aspetti spionistici ed organizzativi. Ne parleremo dopo, vuole? Continua a raccontarci della sua vita. Dopo la fine della guerra, il gruppo di ricerca militare per cui lavoravo mi pagò alcuni viaggi in America, durante i quali entri in contatto con alcuni astronomi e fisici nucleari, che mi illustrarono alcuni dei problemi aperti nei rispettivi campi di indagine. Ce ne può parlare? Cominciamo con ordine. Nella prima metà del Novecento c'era un'accesa discussione tra gli astronomi sulla staticità o meno dell'universo. Einstein aveva scoperto le leggi della relatività generale, con cui poteva descrivere la gravità dell'intero universo. Il russo Alexander Friedman sviluppò l'equazione di Einstein e calcolò i tre scenari possibili per un universo omogeneo nello spazio. A seconda della densità media della materia che contiene, esso può espandersi per poi ricollassare, oppure può espandersi indefinitamente con un moto sempre più lento fino a un diametro massimo, o infine, se la densità è molto bassa, può espandersi per sempre. Le galassie, infatti, non possono rimanere ferme le une rispetto alle altre, perché la loro massa genera una curvatura nello spazio-tempo che contrarrebbe l'intero universo facendolo collassare su se stesso. Ma Einstein non era d'accordo. Eh, no. Einstein era convinto della staticità dell'universo e quindi introdusse quella che chiamò costante cosmologica, che è praticamente equivalente a una forza depulsiva, quella che ora voi chiamate energia oscura. Ma non bastò. Perché? Perché la soluzione stazionaria trovata da Einstein è instabile. È come la posizione di equilibrio di una biglia sopra una palla. Una qualsiasi perturbazione, per esempio una fluttuazione della densità nel cosmo, porta al collasso, al big crunch, oppure all'espansione illimitata. Einstein disse che l'introduzione della costante cosmologica era stato il peggiore errore della sua vita. Ma oggi viene accettato da tutti gli astronomi, anche se in un quadro completamente diverso. Ovvero come il motore che giustifica l'espansione sempre più rapida dell'universo ed anche, subito dopo il Big Bang, come origine dell'inflazione o stiramento che ha reso l'universo così omogeneo. E cosa fece cambiare idea Einstein? I fatti sperimentali. L'astronomo Hubble misurò direttamente la velocità rispetto a noi di un gran numero di galassie e vide che in effetti l'universo è in espansione, perché tutte le galassie recedono con velocità proporzionale alla loro distanza da noi. Secondo il prete e astrofisico George Lemaitre, questa era una dimostrazione di una origine puntiforme. In effetti, se l'universo è in espansione vuol dire che nel passato era più piccolo, e i modelli di Friedman dicevano che in effetti ci doveva essere un tempo nel passato in cui l'intero universo era concentrato in un solo punto, quello che Lemaitre chiamava l'atomo primigenio. La creazione biblica? A dire la verità, Lemaitre ha sempre voluto tenere separate religione e astronomia. È vero che descrisse questo evento come l'uovo cosmico che esplodeva al momento della creazione, alludendo alle intuizioni cosmologiche di molti popoli. Ma quando nel 1951 il Papa Pietro XII voleva dichiarare che la sua teoria era la prova del cattolicesimo, lui e il consigliere scientifico guapale Daniel O'Connell convinse dei pontefici a sovrassedere. Ma comunque lei non era d'accordo, perché? Ero d'accordo con Lemaitre che l'universo si stava espandendo, cosa del resto confermata dalle osservazioni di Hubble, ma non ero d'accordo che ci fosse stata un'origine esplosiva, proprio perché assomigliava troppo alla creazione, come dissi nella famosa intervista radiofonica del 1950 dove cognai il termine Big Bang e poi il fatto che Lemaitre fosse un prete era comunque sospetto. Così per sfotterlo inventai appunto questo termine, che poi, in rioria della sorte, è quello che è stato accettato. Davvero l'ha fatto perché odiava Lemaitre? Ma no, scherzavo. È vero che una volta dissi che per risolvere il problema dell'Irlanda del Nord bastava mettere in galera tutti i preti, sia quelli cattolici che quelli protestanti, perché istillavano l'odio. Ma George era mio buon amico e un ottimo astrofisico. Una volta andammo a fare una vacanza insieme, io, mia moglie e lui. Passammo un paio di settimane sulle Alpi italiane, divertendoci insieme. Ricordo che un venerdì sera andammo a cena e gli ordinai la carne, mentre George, che appunto era un religioso, ordinò il pesce. Ebbene, la mia porzione di carne era minuscola, mentre il suo pesce era enorme. E allora dissi finalmente ho capito perché sei cattolico. Che scherzare, eh, ovviamente, ma vedi che lui arrossì. Pensavo di aver detto qualcosa da sconveniente, che non capivo, ma poi mi ricordai che in realtà lui odiava il pesce. Ma senza il Big Bang, come spiegava l'espansione dell'universo? A me non piaceva l'idea che l'universo cambiasse nel tempo e che avesse un inizio. I modelli cosmologici di Friedman erano basati su il principio cosmologico, secondo il quale l'universo non ha un centro, ma è omogeneo e isotropo, il che vuol dire uguale in ogni posto e uguale in ogni direzione, senza nessun luogo privilegiato. Secondo me doveva valere lo stesso per il tempo. L'universo doveva essere anche eterno e uguale a se stesso in ogni tempo. Un'idea che chiamiamo principio cosmologico perfetto. E come fa? Se si espande diventa meno denso. Secondo me la materia si creava continuamente, per rendere la sua densità costante. Una sorta di creazione continua? Un argomento piuttosto strano per un ateo. Forse per questo in molti la considerano un sostenitore del disegno intelligente. Beh, effettivamente ho scritto un libro che si intitola L'universo intelligente, ma non ho mai detto che c'era bisogno di un creatore. Se c'è una forma di energia legata allo spazio, quando questa si dilata l'energia aumenta, fino a che non è sufficiente a creare della materia. Nella mia teoria quella che succedeva era ogni tanto la produzione di un nuovo atomo, che compariva in un posto a casa dell'universo, ma la mano che lo spazio si espandeva. La teoria dello stato stazionario è rimasta per anni un'alternativa molto valida alla teoria del Big Bang. A dire la verità, questa teoria ha avuto l'appoggio di molti teologi che la preferivano al Big Bang. Quest'ultimo infatti è un atto unico, una visione deista, mentre lo stato stazionario e la creazione continua è una prova dell'intervento continuo di Dio. E poi? E poi è stata scoperta la radiazione cosmica di fondo. E che cos'è? Nel 1964 Arno Penzias e Robert Wilson scoprirono un'emissione di onde radio nel dominio delle microonde che proviene uniformemente da ogni direzione dell'universo. Le caratteristiche di questo fondo erano esattamente quelle previste dalle formule della teoria del Big Bang, ovvero che si tratti delle onde elettromagnetiche emesse al momento in cui l'universo è diventato abbastanza freddo da permettere la separazione tra energia e materia. Questa radiazione si è poi raffreddata nel corso dell'espansione, ma può essere considerata come l'eco del Big Bang. La mia teoria non prevedeva questo fenomeno e non fui in grado di spiegarlo in un'altra maniera, per questo dovete abbandonarla. Però mi mi feci sulla teoria della formazione dei vari atomi, la cosiddetta nucleosintesi. E che c'entra il Big Bang con la nucleosintesi? L'idea, portata avanti da Gamow e altri, è che l'universo abbia origine dalla grossa concentrazione di energia, dalla quale si produce, un po' come avviene nei moderni acceleratori di particelle, nuova materia grazie all'equivalenza tra massa ed energia scoperta da Einstein. Questa materia è inizialmente composta da protoni e neutroni che, raffreddandosi, possono combinarsi dando nuclei di deuterio. I neutroni da soli sono instabili, quindi dopo poco quegli che non si sono combinati decadono in protoni. Due nuclei di deuterio possano a loro volta unirsi, dando luogo a un nucleo di elio, che è formato da due protoni e due neutroni, ma ci vuole una certa energia per superare la repulsione tra i protoni. Però l'energia di legame tra il protone e il neutrone nel deuterio è bassa. Se queste particelle sono troppo calde, ovvero veloci, non si forma il deuterio. Se il deuterio diventa troppo freddo, a caso dell'espansione, non si forma l'elio. C'è quindi bisogno di una tempistica adeguata. Se l'espansione è troppo rapida, non si forma abbastanza elio e tutto torna ad essere idrogeno. Se è troppo lenta, non rimane più idrogeno per formare le stelle. Alla fine di questa nucleosintesi primordiale abbiamo circa il 75% di idrogeno e il 25% di elio. Quindi siamo fortunati che l'espansione sia avvenuta con questa velocità. Non è la sola coincidenza che secondo me è responsabile della vita sulla Terra, ma ne parleremo dopo. Comunque, anche se il Big Bang fosse avvenuto davvero, non si potevano essere formati gli elementi pesanti. Non c'è stato tempo. E poi c'è un collo di bottiglia. Anzi, due. Devuto al fatto che non esistono elementi stabili con 5 ed 8 nucleoni. Nucleoni? È il termine che indica sia protoni che neutroni. Ah, e cosa comporta il fatto che non ci siano elementi stabili con 5 ed 8 nucleoni? Eh, allora, uno dei meccanismi che permette la creazione di nuovi elementi è la cattura neutronica. Quando c'è un neutrone che passa vicino a un nucleo atomico viene catturato a causa della cosiddetta forza nucleare, la forza di attrazione che tiene insieme il protone e il neutrone nel nucleo atomico, che a sua volta deriva dalla forza forte, quella che tiene uniti i quark e i nucleoni. La cattura di un neutrone fa aumentare di 1 la massa atomica, essenzialmente l'esperimento che aveva fatto Fermi in via panisperna. Ma questo processo non può partire dall'elio, che ammassa 4, perché appunto appena si aggiunge un neutrone il nucleo poco dopo lo perde o si spezza, perché non ci sono nuclei stabili con 5 nucleoni. E non si possono neppure fondere due nuclei di elio, perché il risultato è il beriglio 8, che appunto è instabile. E allora? Qui entrano in azione le stelle. Nelle stelle l'idrogeno si fonde, formando elio e poi altri elementi pesanti fino al ferro. Ma non è così ovvio come questo possa funzionare. E come funziona? Nelle prime stelle, dato che c'era solo idrogeno ed elio, si apriva la fusione di due protoni a formare un nucleo di elio terio, con la trasformazione di un protone in un neutrone. Quindi si aggiunge un altro protone, formando un nucleo di elio 3. E infine due di questi nuclei si fondono, formando un nucleo di elio 4 e liberando due protoni. E gli elementi più pesanti? L'unico isotopo stabile del beriglio è il beriglio 9, ma con due nuclei di elio si ha a disposizione solo 8 nucleoni, non 9. Dobbiamo quindi pensare a un processo complicato, in cui due nuclei di elio si fondono generando il beriglio 8, che però tenderebbe a disintegrarsi, a meno che subito dopo non si fonda con un altro nucleo di elio, generando il carbonio. Questo processo è abbastanza improbabile. Se non ci fosse la fortunata coincidenza, il nucleo di carbonio ha una risonanza proprio all'energia giusta, una cosa che ho suggerito io ben prima che venisse osservata sperimentalmente. Anzi, i fisici nucleari non ci volevano proprio credere. La risonanza? Cos'è? È un termine tecnico per dire che un nucleo sta in uno stato eccitato per un tempo sufficientemente lungo, ovvero con una probabilità sufficientemente alta. In fisica nucleare bisogna tener conto di tutti i processi possibili, a seconda della loro probabilità. L'insieme beriglio 8 più particella alfa, ovvero elio 4, ha quasi la stessa energia di un livello eccitato del carbonio 12, e quindi se beriglio 8 ed elio 4 si trovano vicini, cosa che accade in una stella ma non nell'universo primordiale, possono combinarsi, per poi decadere nello stato fondamentale del carbonio 12, emettendo fotoni gamma. Se questo stato eccitato fosse troppo instabile o ad energie diverse, il processo sarebbe stato troppo improbabile. Viceversa, se lo stato del carbonio 12 fosse più stabile, sarebbe accaduto troppo velocemente. E questa è la seconda incredibile coincidenza. Se la risonanza del carbonio fosse appena diversa, le stelle o non si accenderebbero, ottenerebbero troppo velocemente il loro combustibile. Il carbonio è così importante? Certo! Serve come base per generare altri elementi per fusione con altri nuclei di elio, fino al nickel 56, ma anche perché serve come catalizzatore in un altro tipo di reazione nucleare, detto ciclo carbonio-azoto-ossigeno, che è il motore dominante nelle stelle un po' più grandi del Sole, ed è responsabile dei grandi vuoti convettivi, sempre nelle stelle, perché questo ciclo genera calore nella profondità della stella, mentre la fusione dell'idrogeno avviene molto più vicino alla superficie. E come funziona questo ciclo? Fu bete a spiegarlo. Cominciamo dal carbonio 12. Questo cattura un protone, ovvero un nucleo di idrogeno, e diventa azoto 13, dissipando l'energia come un fotone gamma. Questo azoto 13 poi decade in carbonio 13 per decadimento beta, sparando fuori un positrone, un neutrino ed altra energia. Il carbonio 13 cattura un altro protone, diventando azoto 14, liberando energia. Giusto. L'azoto 14 cattura un altro protone e diventa ossigeno 15, sempre generando energia. A questo punto c'è un altro decadimento beta, l'ossigeno 15 diventa azoto 15, che catturando il quattro protone diventa... Potrebbe farlo, ma questo avviene solo lo 0,04% delle volte. Normalmente invece si forma carbonio 12, è un nucleo di elio. Come si vede, tutti gli elementi coinvolti ritornano allo stato iniziale, tranne i quattro nuclei di idrogeno che si fondono in un nucleo di elio, un nucleone alla volta, e i due positroni che dopo poco si annichilano con due elettroni generando altra energia. I neutrini invece scappano via. E poi, gli altri elementi? Gli elementi più pesanti si formano per cattura neutronica, fino al ferro, che è l'elemento con il nucleo più stabile. Si possono generare anche elementi più pesanti del ferro, ma che poi vengono ridisintegrati. Ma per fortuna ci sono le supernove. Queste le conosco. Sono quelle immense esplosioni che avvengono alla fine della vita di una stella, ma che ruolo hanno? Esistono vari tipi di supernove, ma trascuriamo questo dettaglio. Prima di tutto, queste esplosioni espellono il materiale stellare nello spazio, fermando le reazioni nucleari e quindi spandendo i nuclei pesanti al di fuori della stella di origine, favorendo la nascita di altri stelli e pianeti. Inoltre, durante l'esplosione c'è un grande flusso di neutroni veloci che possono essere assorbiti dai nuclei, aumentando la loro massa atomica e che eventualmente si trasformano in protoni. Questo assorbimento neutronico è responsabile della formazione di circa la metà degli elementi più pesanti del ferro. Ultimamente si è scoperto un altro meccanismo, la fusione di neutroni che spellono parte del loro materiale durante lo scontro. Come per l'assorbimento neutronico, anche in questo caso i neutroni si possono trasformare in protoni e questi aggloberati possono poi separarsi, come nella fusione atomica, generando tutti i tipi di elementi. L'onda adulto delle supernove, inoltre, favorisce la nascita di altre stelle. Noi siamo effettivamente figli delle stelle, come cantava il vostro Alan Sorrenti. Certo, che ha fatto un sacco di cose diverse lei, il radar, la cosmologia, la nucleosintesi nelle stelle, senza contare che è famoso anche per la sua teoria dell'origine nella vita del cosmo, la cosiddetta panspermia. Sì, l'origine della vita sulla Terra mi sembrava troppo improbabile. Una volta dissi che quella faccella complicata e complessa, che è che una cellula sia nata spontaneamente e per caso sulla Terra, ha la stessa probabilità che un tornado, passando su un deposito di rottami, ne tiri fuori un Boeing 747 perfettamente funzionante. La grande quantità di carbonio nell'universo e l'osservazione di molecole organiche nelle corveri intestellari mi portarono a ipotizzare che la vita non si sia formata qui, ma sia arrivata allo spazio in forma di virus. Come nel romando The Andromeda Strain di Michael Crichton? Più o meno. Evidentemente molti credevano alla mia teoria, dato che per esempio gli astronauti delle prime tre missioni che sono atterrati sulla Luna, sono stati tenuti una ventina di giorni in quarantena, al loro ritorno, per paura che fossero stati contaminati da virus spaziali. Insieme a Chandra Vikramasinghe avevamo anche fatto notare una significativa correlazione tra epidemie di influenza e macchie solari. La nostra idea era che molti virus si formano nello spazio e vengono poi trasportati al vento solare, ipotesi che poi ci ha dimostrato infondata. Ed è stato per queste teorie un po' esoteriche che non le hanno dato il Nobel? Penso di sì, anche perché amavo polemizzare con tutti, anche con la commissione Nobel. Ho sostenuto per esempio che il fossile di Archeopteryx, quello a metà tra un dinosaurio e un uccello, fosse un falso, anche se poi è stato provato che è autentico. Lei ha scritto anche romanzi di fantascienza? Certo, applicando le mie teorie. Nel romanzo La nuvola nera supponevo che nell'universo fossero comuni organismi gassosi e che uno di questi arrivi a schermare il sole. Poi si accorge, con molta meraviglia, che c'era vita sulla Terra e quindi si scansa. Nella sceneggiatura delle miniserie A come Andromeda, prodotta dalla BBC nel 61, supponevo che arrivasse dallo spazio un messaggio che conteneva le istruzioni per costruire un super computer, il quale a sua volta dava le istruzioni per costruire una donna, Andromeda, che aveva lo scopo di dominare la Terra, anche se poi si rivelava troppo umana e si innamorava. Purtroppo la copia originale della serie è data perduta, ma so che voi in Italia ne avete prodotto un remake nel 72? Certo, quello con Paola Pitagora e Luigi Vannucchi. Che paura mi ha fatto quando ero bambina? E non c'era solo il calcolatore a farmi paura, c'erano i militari, le spie, la corporazione cattiva, Intel, tutti ricordi dell'epoca dei radar, immagino. È così, chissà se i fondatori della vera Intel, sa, quella dei microprocessori, nata nel 68, abbiano mai sentito parlare della mia trasmissione. Grazie per essere intervenuto su Physicast. Arrivederci. Arrivederci a qualcuno. Physicast è un podcast in cui i docenti universitari e ricercatori parlano di Physicast. con il linguaggio di tutti i giorni. Realizzato da Riccardo Faccini, Gianluca Licausi, Giovanni Mazzitelli e Giovanni Organtini, con la collaborazione di Chiara Piselli e Carlo Mancini, la regia di Antonella Bartoli ed Edoardo Massaro e il supporto dell'Associazione Frascati Scienze di Radio Sapienza. Tutte le puntate e altre informazioni sono consultabili su www.radioscienza.it commenti e spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi, dunque potete contattarci a Physicast chiocciolaradioscienza.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.